Viene sugli 8.000-9.000 euro l'abito. Un dettaglio prezioso, quanto l'hai pagata questa? È sopra, sopra i 3K. B-Pocket di Moschino costa sui 1.800-1.900 euro. Scusami, ci possiamo fare un'intervista? Possiamo fare una domanda sul tuo look? Dal nero, che è il must, si torna al cammello. Con verde, viola e un tocco di arancio. Una parola come devi tenersi il tuo stile? Cacofonico. Ho messo una camicia con le rouge, estremamente vistosa rispetto al sotto. Io volevo essere così, come una principessa. Mi piace la musica di disco, quindi questo è un style disco. Mi piaceva l'idea di abbinare un look pigiama, che va molto di tendenza in questo periodo. She is wearing Gucci. She is wearing a Gucci. What is the price of the Gucci piece? I didn't ask. It's too expensive. Too expensive. I don't know, it's Gucci. È completamente Gucci l'abito della scorsa collezione La pochette è di Fendi Mentre le scarpe sono di Valentino Ho fatto un pochino un mix Quanto costa quest'abito? Beh, me l'hanno regalato Però viene sugli 8.000-9.000 euro l'abito Io lo metto anche con le sneakers paradossalmente Oggi per l'occasione ho messo un tacco Ma io di solito vado via così comunque sempre È il look che uso solitamente L'unica cosa è che ho voluto rendere omaggio alla sfilata di Gucci Sto mettendo il loro calzino Ica Trabbara essere intorno ai 100 euro, 190 euro Quale è il prezzo di questa bagna? 3.000 euro, ovviamente Circa 800 euro Il pezzo più costante del tuo look? Il pezzo di Louis Vuitton limited edition Quanto? 3.000 euro Quale è il pezzo più costante del tuo look? Penso che sono i miei occhi 2.000 euro Quanto è il tuo nome? 200 euro E quanto è il pezzo? Circa 600 o 500 euro E quanto è il pezzo? Sto sicuro che è vicino a 2.000 euro Quale è il pezzo più prezioso che oggi indossi? Me stesso Quale è il prezzo di questa bagna? Probabilmente circa 1.000 euro o ancora più E' la collana di Chanel Che invece costa un po' di più Quanto costa questa collana? 2.000 euro Questa si è firmata da Chanel Questo è un dettaglio prezioso Quanto l'hai pagata questa? E' sopra 3k L'accessorio più prezioso che oggi indossi tra le borsi? Che vengono più o meno intorno? 990 L'accessorio più prezioso, forse la B-Pocket di Moschino Costa sui 1.800-1.900 euro Quale è l'accessorio più prezioso di oggi? Questo, guarda Stivali anche, per esempio quanto costano questi stivali? Quanto costano, non lo so, 1.000 euro, penso così Quale è il tuo lavoro? Il mio lavoro è un bloggera fashion Io ho iniziato a scrivere su un blog nel 2012 Scriviamo un fashion blog Sono un bloggera Sono un influencer Io sono un bloggera Io sono un bloggera Sono un bloggera